Forse Diva aveva ragione! La paura esiste davvero! Vedo quattro mani verdi che ti stanno venendo incontro! Non capisco che cosa mi vuoi dire, Trillo! Ah, forse ho capito! Le tue antennine tremano per la paura! Ma no, Cilindro! Trillo non sta tremando! Sta solo dicendo che quelle che vedi non sono le mani della paura! Sono solo delle grandi foglie! Vuoi dire che quelle cose che si muovono là in fondo non sono le mani della paura? Esatto, Cilindro! Trillo dice che non correrai alcun rischio e quindi puoi stare tranquillo! Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al canale e continua a seguirci!